ciao simo allora sei pronta per la nuova stagione ciao si sono pronto mi fa sorridere perché insomma ci sono i lavori ovunque e noi siamo qui tranquilli a prenderci un caffettino ma perché il caffè ci fa pensare meglio aspetta che lo faccio anche vedere il caffè del mogli ovviamente ovviamente bravo hai ripreso tutto giustamente non abbiamo fatto troppi passi è la radio però insomma io devo un attimo ciao ciao devo riprendere un attimo le idee perché dobbiamo raccontare una cosa e lo raccontiamo tra poco ai miei amici e ai nostri amici esattamente perché la stagione inizia a farsi calda come meteo non tanto ma siamo quasi lì siamo quasi lì vabbè dai prendiamoci il caffè poi ci spostiamo e ai più andiamo a raccontare che cosa andremo a fare ovvio va bene allora intanto sono in attesa che vado a pagare a Riene e poi ci prendo meno per il sole si sicuramente sto ancora aspettando perché quando Riene inizia a parlare ragazzi non la smette più quindi in qualche modo che aspetto 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 intanto vi faccio vedere il caffè ormai li abbiamo belle che consumati e aspettiamo va bene eccolo è uscito allora il caffè ce lo siamo presi giusto assolutamente quindi adesso siamo di nuovo qua aspetta e rimani lì a non scappare perché io inquadro qui vedete eh sì perché sto per aprire e perché sto per aprire Riene semmai ce la farò sì ce la farò è un vero all'altra parte Simona secondo me anche e ce la possiamo fare vedi vedi perché Riene quante ne sa ne sa allora siamo qui perché diciamo la verità che secondo me hanno cambiato la serratura quando tu eri in vacanza anche secondo me ho questo dubbio ma vuoi dire che sono stata così tanto in vacanza eh secondo me sì va bene allora proprio perché sono stata in vacanza ai miei amici del martedì mattina voglio dire aiuto cascatutto dei port voglio dire che li aspetto come sempre alle 9.30 e partirò dalla seconda secondo martedì settembre ma questo perché perché stiamo preparando la nuova stagione assolutamente anche io lo sono già pronto perché sono già tutto in programma e sto già facendo tutto intanto io faccio vedere che ci sono un po' di lavori perché qui il lavoro bisogna farlo sempre lo facciamo anche noi organizzando quelle che sono insomma le nuove e la nuova stagione sicuramente insomma i miei amici aspetteranno anche te lo sai sempre che Ariade si sveglie che metta effettivamente la sveglia perché poi questo dobbiamo dire che non sappiamo mai e se si sveglia il mestiere del dj purtroppo è fatto così Simo senti allora che dici io direi che vado a cambiarmi perché noi abbiamo realizzato un video per poter raccontare effettivamente quale sarà la nuova stagione siete pronti andiamo come sempre vi aspetto il martedì alle 9.30 e come sempre raccontatemi in questo caso anche le vostre vacanze perché le vacanze sono finite ma noi insieme ripartiamo ciao intanto recupero anche il portafoglio e me ne do oh ma che bello ritornare dopo tutto questo tempo abbiamo un po' arieggiato e diamo un po' di aria perché come sempre la nuova stagione porta sicuramente novità e come vedete tutto quasi è rimasto come prima ma siamo pronti per iniziare la nuova stagione tutto c'è microfono mix regia cuffie ci siete voi ci siamo noi c'è soprattutto TRS radio pronta per portarvi compagnia 24 ore su 24 365 giorni all'anno anche in questa nuova stagione 2024 2025 vi aspettiamo tante le novità anche quest'anno ciao 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 u